Non so che non ho gli impegni ma io sarei venuto anche a piedi dall'altra parte dell'Italia perché questo è un momento veramente molto atteso dalla città di Roma. Sono ormai quattro anni e mezzo che dal 2008 ci auguravamo, sollecitavamo una proposta da parte della Roma per individuare l'area dello stadio per partire e finalmente io sono molto contento appunto di avere questo annuncio e di giungere a queste conclusioni. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di essere vicini a Roma nel momento della richiesta, delle definizioni di tutti quegli aspetti tecnici, lo abbiamo accompagnato nel rispetto ovviamente all'iniziativa privata che contraddistingue questo progetto. Questo è un progetto tra privati, tra un club di calcio e un gruppo privato e noi abbiamo dato tutta l'informazione per chi sono voti possibili per chi si potesse arrivare più a gente possibile.